come potete vedere dallo sfondo alle mie spalle non sono più a New York l'altro ieri sera abbiamo avuto un momento dove ci siamo sentiti un po' persi io, Claudio, per la situazione ovvero New York non era più diventata una città da considerarsi sicura per noi nelle mie condizioni soprattutto perché quando inizia a vedere la gente che invece di andare a comprare carta igienica va a comprare armi e fanno le file fuori a negozi quando pensi comunque a livello di povertà che c'è nella città purtroppo quando inizia a pensare appunto al fatto che non è mai successo una cosa del genere che il popolo americano non è per niente uguale al popolo italiano abbiamo iniziato ad aver paura più che del virus proprio della reazione della gente di quello che poteva succedere attorno a noi e non ci siamo sentiti sicuri con una bambina piccola e una in arrivo e abbiamo deciso di venire dalla nostra seconda famiglia qua in America quindi siamo venuti da Giuliana in modo da stare tutti insieme al di fuori delle grandi città perché le grandi città non sono sicure in questo momento in America e non so cosa ne sarà perché qua non ho neanche il dottore è tutto un po' così no? però almeno mi sento sicura e adesso in questi giorni cercheremo di capire un pochino la situazione e come fare col parto imminente però diciamo che ragazzi come si dice in Italia andrà tutto bene e adesso cerchiamo di capire la situazione teniamo monitorato tutto il teniamo monitorato tutte le decisioni che verranno prese nelle prossime settimane solo che abbiamo capito che non aveva senso aspettare che succedesse l'impossibile mentre eravamo lì per poi dopo non avere possibilità di decisione perché nel caso le cose si mettessero male senza una macchina con una bambina in arrivo con gli ospedali pieni con gente in giro appunto magari che va fuori per la situazione che ti spara a vista per magari prendersi su qualcosa non mi sentivo sicura è una situazione da film e come tale abbiamo deciso appunto di fare insomma questa cosa di venire e essere in un numero maggiore tutto in un clima più sereno anche per Grace che è felicissima ovviamente di essere qua non vedeva l'ora di vedere Joseph e Jacob perché lei è innamorata pazza dei figli di Giuliana con noi è venuta anche la nostra babysitter con il suo bambino abbiamo voluto portare anche lei perché le abbiamo detto che era la nostra scelta ovviamente poteva scegliere di restare a New York ma che le abbiamo spiegato le motivazioni per le quali abbiamo preso questa decisione e anche lei ha capito che è meglio insomma la famiglia prima di tutto perché comunque alla fine mi ha lasciato tutte le nostre comodità e avevo già tutto pronto anche per la bambina siamo qui con due valigie in croce e senza sapere cosa fare però almeno almeno siamo più sicuri allora intanto mi state chiedendo perché compro le armi e siccome ero al 3 adesso con il mio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti